Giocare la gara senza paura e con la consapevolezza di una ritrovata serenità e la ricetta scelta dalla Fidelis è spiegata da Giovanni Langella, tecnico in seconda, per affrontare la difficilissima sfida di domenica contro il Cerignola, forse la squadra più in forma del momento e che arriva da ben otto risultati utili consecutivi. È una partita bella da giocare, è una partita interessante soprattutto per la crescita dei nostri giovani perché comunque giocare contro giocatori importanti come quelli del Cerignola sarà un bel baggo di prova per tutti. Come abbiamo detto tutta la settimana dobbiamo essere spensierati, lavorare come stiamo lavorando e consapevoli che possiamo anche farli male. Una squadra di cui temere non solo i singoli ma anche l'impostazione tattica operata sin dall'arrivo di Vincenzo Feola. Sicuramente la loro forza in attacco, hanno quattro attaccanti, anzi cinque perché c'è anche Loi Odici che in questo momento qua viene utilizzato meno rispetto agli altri però hanno un parco attaccanti di tutto rispetto per questa categoria quindi è ovvio che comunque un po' di attenzioni da parte dei nostri difensori deve essere messa un po' diversa rispetto alle altre partite perché questi nel momento in cui i bagli ti puniscono non ti danno una seconda possibilità. In casa Fidelis tutti disponibili, recuperati anche gli acciaccati ma mancheranno oltre a Favarini in panchina piedato dal giudice sportivo per due giornate anche Montemurro e Porcaro entrambi squalificati per un solo turno. Ancora non disponibile anche Langone a cui tocca scontare il secondo turno invece di squalifica rimediato prima dell'arrivo in casa Biancazzurra. Forte in difesa mentre qualche dubbio in più sul sostituto al centrocampo considerando un impianto di gioco che non cambierà tatticamente e che potrà contare sulla verve di molti giovani in più. A centrocampo abbiamo un po' di dubbi ancora quindi stiamo vedendo un po' cosa potrebbe succedere però diciamo che nella linea di massima è la formazione che ha giocato anche domenica. E proprio al mercato la società Biancazzurra continua ad essere attenta dopo gli ultimi arrivi che hanno rimpinguato e completato il reparto under ora si guarda con attenzione al reparto offensivo come ci conferma lo stesso Langella. Qualcosa in attacco come ho detto anche prima perché ovviamente siamo anche numericamente pochi. So che non è facile perché in questo momento qua è un mercato un po' particolare non puoi attingere dalla serie D quindi la classifica un po' impone alcune situazioni non facili per direttore quindi ovvio che non sarà facile però qualsiasi cosa riusciremo a fare loro sono pronti a eventualmente accogliere l'occasione. Inizio gara posticipato di mezz'ora con avvio alle 15 al Monterisi per una gara che è ormai sinonimo di vera festa di sport. La direzione di gara sarà affidata a Claudio Campobasso della sezione di Formia.